Racconto d'arte, nuova puntata, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento della storia dell'arte. Quest'oggi parliamo di Hilaire Germain Edgar Degas, nato a Parigi il 19 luglio del 1834 e morto sempre a Parigi il 27 settembre del 1917. È stato un pittore, uno scultore francese considerato appartenente agli impressionisti e celebre per i suoi dipinti a pastello e ad olio. Sebbene lui sia considerato uno dei fondatori dell'impressionismo però rifiutò sempre questo termine preferendo essere definito un realista. Era un superbo disegnatore particolarmente magistrale nel rappresentare il movimento, come ad esempio è ben evidente nelle sue interpretazioni di ballerine e nudi femminili al bagno. Oltre a questi soggetti si occupò anche di dipingere cavalli da corse e fantini che erano considerate delle opere notevoli non soltanto per la loro complessità psicologica ma anche per la loro rappresentazione di condizione dell'isolamento umano. All'inizio della sua carriera voleva diventare un pittore di storia, una vocazione per la quale si era ben preparato grazie alla sua rigorosa formazione accademica e da uno studio approfondito anche dell'arte classica. Poco più che trentenne però cambiò strada, cambiò idea e applicò i metodi tradizionali di un pittore di storia a soggetti contemporanei. Per questo è stato definito un pittore classico della vita moderna. L'opera che abbiamo scelto quest'oggi di approfondire insieme a voi è Ballerina con il mazzo di fiori. Un dipinto che rappresenta uno dei temi preferiti a cui accennavamo prima, uno dei temi preferiti dell'artista francese che fu un assiduo frequentatore di teatri. Parliamo di un dipinto datato 1877, un olio diluito con trementina e pastello a cera su tela che misura 65 x 36 cm. Attualmente è esposto al Museo d'Orsay di Parigi. Veniamo adesso alla descrizione perché parliamo di una danzatrice raffigurata nel dipinto e ritratta durante un passo di danza. La giovane si trova in equilibrio sulla punta di un piede e si inchina in avanti, come potete ben vedere alle mie spalle, e in realtà ha terminato la sua esibizione e sta ringraziando il pubblico che nel frattempo sicuramente la starà applaudendo e sul fondo vi sono altre ballerine che sono colte in posizioni differenti. La figura della ballerina, veniamo adesso allo stile, è eterea, cioè le sue parti sono semplici campiture chiare, la gamba portata in avanti è messa in evidenza da un leggero contorno che è un po' più scuro, come le braccia e il busto, e il letto tu invece è il risultato di pennellate disposte a raggera intorno alla vita della ballerina stessa. Sullo sfondo accennavamo prima alla presenza di altre ballerine che ovviamente sono solo accennate con alcuni semplici tratti di colore. E' quello che poi dobbiamo dire che lui preferì definirsi realista, a cui accennavamo prima questo argomento, perché piuttosto che impressionista, perché lui nutriva un vero interesse per la rappresentazione della realtà, in questo caso particolarmente per le pose delle ballerine. Lui indagò con rigore scientifico la danza, tanto da cogliere le danzatrici, nelle posizioni più ardite, a volte anche prive di grazia. Per quanto riguarda il colore e l'illuminazione, ovviamente sull'intera composizione cromatica prevale quello che è il colore ocra del palcoscenico, il dipinto è comunque frutto di un diretto contrasto tra il colore bruno e il colore azzurro e questo accostamento si riscontra anche nel fondale, dietro le ballerine. Poi tra i tutù delle giovani, il colore del palcoscenico e anche dell'intero mazzo di fiori. Ecco, la luce illumina ed evidenzia quella che è la ballerina, ovviamente la figura principale, quella in primo piano, ma anche le compagne sullo sfondo. Ovviamente è una luce che proviene da una parte frontale, quindi sembra a sua volta che la ballerina diffonda luce propria. Per quanto riguarda lo spazio parliamo sicuramente di un punto di vista rialzato che crea una prospettiva molto particolare. Infatti la giovane ballerina è vicina al fronte del dipinto e le sue compagne invece si intravedono sul fondo. Ovviamente sono delle figure rimpicciolite dalla distanza e sfocate, ovviamente questa sfocatura è alimentata dall'uso di colori molto più pallidi. È un dipinto verticale nel quale il soggetto principale occupa due terzi dell'opera. Il primo piano è infatti dedicato alla figura della giovane danzatrice in maniera proprio integra e sul fondo le compagne sono in gruppo contro questo fondale dipinto. Lui quindi riesce a ritrarre la ballerina da un punto di vista molto alto, abbiamo un'inquadratura definita di tipo fotografico e lui riesce anche a costruire una scena molto dinamica. Questo è quello che percepisce l'osservatore guardando questo dipinto, forzando la consueta prospettiva frontale che è di solite offerta agli spettatori che sono seduti in basso nelle prime file. Il corpo della ballerina infine con la posizione di braccia e gambe forma una stella, come potete ben vedere. Quindi l'apertura delle braccia crea una verticale molto evidente che sale dal basso a sinistra verso destra e infine in corrispondenza della mano sinistra della giovane danzatrice vi è una linea curva che unisce tutto il resto delle giovani che si intravedono sul fondo del palcoscenico mentre si stanno preparando ad esibirsi dopo la protagonista. Era questo l'ultimo dettaglio di questa analisi, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Racconto d'Arte. Grazie a tutti!